Sarò sempre con te Gloria a Gesù Cristo Pace a tutti Benvenuti a questo culto per il matrimonio di Antonino e Caterina Vogliamo salutare tutti i presenti Benvenuti agli sposi, tutti i parenti, gli amici Tutti coloro che sono intervenuti E noi siamo qui per presentare Davanti alla presenza di nostro Signore Gesù Cristo Questa loro unione Loro sono qui affinché oggi sia celebrata La loro unione in matrimonio E noi vogliamo Vogliamo pregare Vogliamo presentare Il Signore è qui La sua presenza dice La scrittura Dice Gesù dove due o tre Sono radunati nel mio nome Io sono là In mezzo a loro E noi vogliamo volgere a Lui Presentare ogni cosa Affinché Egli possa Benedire Grandemente Tutto ciò che noi faremo E ogni cosa a Lui Noi siamo qua questa sera Nel nome del Padre Del Figlio Dello Spirito Santo Che è il nome di Gesù Cristo Preghiamo Signore ti vogliamo ringraziare Grazie per la Tua presenza Grazie perché Tu sei qui con noi Signore Noi vogliamo chiedere L'opera Tua Del Tuo Santo Spirito Signore Sii Tu a guidare ogni cosa Signore A intervenire Signore A riempire ogni cuore Signore Con la Tua presenza Signore Ti ringraziamo Per tutto quello Che Tu hai fatto Signore Grazie Benedici Ti preghiamo Antonino Insieme a Caterina Benedici Tutti coloro che sono intervenuti O Padre E presentiamo a Te Signore Anche la parola Signore Che in questa giornata Signore Noi riceveremo E ascolteremo Signore Noi Ti ringraziamo Per tutta la Santa Chiesa Signore Benedici Signore il Pastore Padre E Ti ringraziamo Per ogni cosa Nel nome di Gesù Cristo Amen Gloria a Gesù Cristo Gloria a Gesù Cristo Alleluia Chi sente di pregare Grazie Noi c'è la lista Per il canto Ti vogliamo Diversiare Per vivere Signore Grazie Per questo Sottorno Per questo Donato Signore Grazie Per come possiamo Venire Alla Tua presenza In un nome di Gesù Cristo Nel nome di Gesù Cristo Amen Il coro e i presenti Si possono accomodare A te A te mio Dio Affido Mestessa Con ciò che sono Per te signor Il mondo mio E nelle Tue mani Ed io sono Tua Per sempre Io credo in te Gesù Cristo Appartengo a te Signor E per te che io vivo Per te io canterò Con tutto il cuore Ti seguirò Ti seguirò Ovunque Tu andrai Con lacrime Che gioia O fede in te Caminerò Nelle Tue vie Nelle Tue mani Nelle Tue mani Nelle Tue mani Amと思います Se listener Per te che io vivo Per te io canterò Con tutto il cuore Io ti adoro E ti adorero Io ti adoro E ti adorero Io ti adoro E ti adorero Io credo in te, Gesù A parte con te, Gesù E per te che io miro E per te io che adoro Io credo in te, Gesù A parte con te, Gesù E per te che io miro E per te io canterò Con tutto il cuore E per te che io miro E per te io canterò Con tutto il cuore Amen Gloria a Gesù Cristo E come dice il canto Noi affidiamo la nostra vita Tutto a noi stessi Nelle sue mani Perché nelle sue mani È al sicuro Gloria a Gesù Cristo Perché noi crediamo Crediamo in Lui Adesso passiamo alla lettura Del Salmo 127 Lo leggerà L'anziano Giuseppe Praticò Gloria a Gesù Cristo Se l'Eterno non edifica la casa In vano vi si affaticano Gli edificatori Se l'Eterno non guardia La città In vano vegliano le guardie In vano vi levate Di buon'ora E tardi andate a riposare E mangiate di panditoie Egli dà altrettanto A suoi diletti Mentre si dormono Ecco I figlioli sono un'eredità Che viene dall'Eterno Il frutto del seno materno È un premio Quali le frecce In mani d'un prode Tali sono i figlioli Della giovinezza Beati coloro Che ne hanno il turcasso pieno Non saranno confusi Quando parleranno Con i loro nemici Alla porta Amen Amen Gloria a Gesù Cristo Alleluia Alleluia Corro Alleluia 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 Grazie a tutti 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 Cari sposi, benvenuti agli sposi e a tutti i presenti Lodo di Gesù Cristo Noi siamo qua davanti al Signore Dice la scrittura che dove due o tre sono radunati dice nel mio nome io sono l'acqua Quindi siamo davanti al Signore che sono testimoni del vostro matrimonio Avete visto il tempo? Niente pioggia, niente pioggia, lodo di Gesù Cristo Ma quello che è importante è la benedizione del Signore Noi abbiamo bisogno di tutto, noi abbiamo bisogno di tutto, ma senza la benedizione di Dio serve a poco Lodo di Gesù Cristo, oggi è il vostro giorno, è l'inizio di un percorso dove due strade si incontrano, due vie, due persone, pensieri diversi Oggi diventate una sola persona, una sola carne dice Lodo di Gesù Cristo Due progetti che si fondano in un progetto unico Questo ci insegna il Signore E poi ci spiega il nostro Signore Gesù che Che la Chiesa Questo mistero grande del matrimonio È come la Chiesa La Chiesa è la sposa E lui è lo sposo C'è questa unione Indissolubile Tra la Chiesa e lo sposo E questo è il matrimonio Il matrimonio non è un istituto nato dall'uomo È proprio qualcosa che ha voluto il Signore E il progetto di Dio È un progetto di Dio Per la crescita, per lo sviluppo, per la formazione Lodo è Gesù Cristo Io avevo un passo da legge Sembra che non c'entra Ma quando Nicodemo Uomo della legge Senta parlare di Gesù Che vuole conoscere ancora più a fondo Quello che il Signore ha compiuto Vuole avvicinarsi sempre di più Questo ha un senso per voi Questo passo io Ho detto il Signore Dammi un passo Per Nino e per Caterina Leggiamo Capitolo 3 di Giovanni Dice ora tra i farisei C'era un uomo Chiamato Nicodemo Uno dei capi giudei Egli venne di notte a Gesù E gli disse Maestro Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio Perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai Se Dio non è con lui Gesù gli rispose dicendo In verità In verità Io ti dico Che se uno non è nato di nuovo Non può vedere il regno di Dio E Nicodemo Gli disse Come può un uomo nascere Quando è vecchio Può egli entrare una seconda volta Nel seno di sua madre Nascere Gesù rispose In verità In verità Ti dico Che se uno non è nato di acqua e di spirito Non può entrare nel legno di Dio Quello che è nato dalla carne è carne Quello che è nato dallo spirito è spirito Non ti meravigliare Non ti meravigliare se ti ho detto Bisogna che è nascita di nuovo Il vento soffia dove vuole E tu ne odi il rumore Ma non sai né da dove viene Né dove va Così è di chiunque è nato dallo spirito Nicodemo replicò e gli disse Come possano avvenire queste cose E Gesù gli rispose Tu sei Il dottore di Israele E non sai queste cose In verità In verità Io ti dico Che noi parliamo di quello che sappiamo E testimoniamo di quello che abbiamo veduto Ma voi Non ricevete la nostra testimonianza Se vi ho parlato delle cose terrene Non credete Come crederete se vi parlerò delle cose celesti Nessuno è salito in cielo Se non colui che è disceso dal cielo Il figlio dell'uomo che è nel cielo E come Mosè innalzò il serpente nel deserto Così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato Affinché chiunque creda in lui Abbia vita eterna Poiché Questo è il versetto clou Poiché Il Dio ha tanto amato il mondo Che ha dato il suo unigenito figlio Affinché chiunque creda in lui Non perisca Ma abbia vita eterna L'uomo è Gesù Cristo Infatti Il Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo Per giudicare il mondo Ma perché il mondo sia salvato Per mezzo di lui Chi crede in lui non è giudicato Chi non crede è già giudicato Perché non ha creduto nel nome Dell'unigenito figlio di Dio E il giudizio è questo Che la luce è venuta nel mondo E gli uomini hanno amato le tenebre Più che la luce Perché le loro opere Erano malvagie Poiché Chiunque fa cose malvagie Odia la luce Non viene alla luce Perché le sue opere Non siano riprovate Ma chi mette in pratica la verità Viene alla luce Affinché le opere sue Siano manifestate Perché sono fatte in Dio L'odo è Gesù Cristo E in questo passo noi vediamo L'amore di Dio Io anticipo Quello che poi saranno Gli articoli di fede E' uno degli articoli di fede Che mostra E ci parla Del matrimonio E Parla dello sposo Che deve amare la sposa E altresì La sposa che deve amare lo sposo Dando se stessi E l'esempio più grande Del donare Del dare E' quello di Gesù Egli ha dato se stesso Dice Così Dio ha così Tanto amato il mondo Che ha dato il suo Unigenito figlio C'è l'amore di Dio E quello deve essere L'esempio dell'amore Che voi dovete avere Tra di voi Dice come Lo sposo Che ha dato tutto Per la sposa Anche voi dovete Avere questo sentimento Di amore Dice Dice Sempre la scrittura Che Una corda A due capi E' buona Ma Una corda a tre capi Non si spezza Voi dovete Inserire E fare vivere Tra di voi Questa terza parte Che è la parte più Importante La parte principale Che è il Signore Gesù Ma non il Signore Gesù Come Simbolo Come Come immagine Ma l'amore di Dio Che vive In noi Perché Gesù E' venuto per Manifestare L'amore di Dio Egli stesso E' la manifestazione Di Dio Se voi Riuscite Non è difficile Sembra difficile Ma Gli Ci ha dato il dono Allo Spirito Santo Gli ha dato il dono Il dono di Dio Alla Chiesa Il suo Spirito Per compiere L'opera sua Quindi Non tutti i giorni Saranno col sole Nino Caterina Ci sarà un po' di nuve Intanto piove Pioverà Tempesta Vento Ma è il Signore Colui Che calma Ogni cosa E' colui che calma La tempesta Dice che Un giorno I discepoli Erano sulla barca E c'era una tempesta tremenda E videro spuntare Gesù Nelle acque E lo invitarono a salire Sulla barca Dice che appena Egli salì sulla barca La tempesta Si acquietò L'uomo di Gesù Cristo In lui c'è tutto il potere di Dio Tutto Dice il potere Della teità Di Dio E' spiegata Sul corpo di Gesù Ecco Chi deve essere Diciamo Quella Terza parte Il terzo capo Di questa corda Gesù Cristo Egli è la nostra sicurezza E' la vostra sicurezza E' colui che calmerà la tempesta Che Fermerà il tempo L'ho visto Nino Un po' di fresco L'abbiamo chiesto Solo ma non troppo Nino Qualcuno voleva Quaranta gradi Noi volevamo Una bella serata Con poco sole Senza pioggia Ma sembra che il Signore Sta ascoltando Signore grazie Lo vogliamo ringraziare E io prego che il Signore Possa benedire Il vostro matrimonio E' come Il salmo che abbiamo ascoltato Che meraviglioso E' un salmo Dice se il Signore Non edifica In vano edificano Gli edificatori Ecco E' sempre Lui Che noi dobbiamo Cercare Noi lo dobbiamo cercare Con tutto il nostro cuore Dobbiamo cercare Attraverso La fede La fiducia Sperando nella Sua parola Perché Egli E' il compitore E' il compitore Egli è il verace Ha detto Gesù Io sono la via La verità è la vita Egli è la verità Egli è venuto Per compiere E vuole compiere Nella vostra vita Le sue promesse E vuole benedire L'oda a Gesù Cristo Dice poiché E Dio E Dio ha tanto Amato Il mondo E l'amore di Dio Si manifesta Attraverso Gesù Egli ha dato Il suo figlio Unigenito Gesù Cristo L'ha dato per noi Egli è l'esempio perfetto Dell'amore Di Dio Quest'amore Che voi dovete avere Perché l'amore di Dio E' sapiente L'amore di Dio Vi guida Vi difende L'amore di Dio E' discernimento E' sapienza L'oda a Gesù Cristo Per voi figli di Dio Non credo che questo sia difficile Ma quando verranno I momenti difficili Invocate Invocate al Signore Chiedete aiuto Pregate insieme Unitevi insieme a pregare Dice dove due si accordano Dice la scrittura Per chiedere Egli per certo risponderà L'oda a Gesù Cristo Se l'eterno non edifica la casa In vano vi si affaticano Gli edificatori Ce lo dice prima Ce lo dice in premessa Se non c'è Lui Si faranno tante cose Senza di Lui Ma saranno tutte cose pane Se c'è Lui inserito Nel vostro progetto Io credo di sì Perché conosco Il cuore di Nino E di Caterina E allora Voi farete Dei progetti bellissimi Che riusciranno Noi non solo Dobbiamo fare progetti In vista di Lui Ma che devono riuscire Per la vostra vita Progetti Che riusciranno Ecco i figli Sono un'eredità Che viene dall'Eterno Il frutto del Seno Materno E' un premio Quale le frecce In mani di un prote Tali sono i figli E della giovinezza Beati coloro Che ne hanno Il turcasso pieno Ecco Qua c'è un Salmo Che manda Benedizione su di voi Per avere figli Il Signore vi benedica Il pastore Tutta la Chiesa E' con voi Prega per voi E prega Anche per Il proseguo Della giornata Perché Non finisce qua Ma soprattutto Il vostro progetto Il vostro matrimonio Affinché sia Santificato Invocatelo sempre Tutti i giorni E ci sarà La benedizione Di Dio Su di voi Questa è la sua Promessa per voi Dio vi benedica Ci vediamo dopo A me Coro A me Grazie. 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 E allora, passiamo alla parte civile, perché questo matrimonio abbia anche validità civile. Leggiamo gli articoli del Codice Civile. Articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i conugi sono tenuti ciascuna relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I conugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia. Secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa, a ciascuno dei conugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Il matrimonio impone ad avventù i conugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis che così dispone. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 anche di età inferiore o capace di discernimento ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare il genitore e deve contribuire in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze, al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Ecco, questi sono gli articoli del Codice Civile. Ci vogliamo alzare in piedi? Lode a Gesù Cristo. Vogliamo pregare il Signore. Signore, ti ringraziamo Padre perché tu sei in mezzanotte. e ti vogliamo chiedere di benedire, Signore, benedice questa giornata, questo matrimonio, benedice Nino, Caterina, le rispettive famiglie, tutti gli invitati, tutta la Chiesa. Signore, grazie perché tu sei in mezzo a noi e noi ti vogliamo ringraziare per questo, nel nome di Gesù Cristo. Ora, noi, la Chiesa vive delle decime delle offerte e quindi passeremo all'offerta, questo servizio sacro. Signore, noi, Padre, ti preghiamo per questo servizio, benedicelo, nel nome di Gesù Cristo. D'accordo? Avete un canto? D'accordo? Grazie, grazie. Sì. Ciao. Chi è pari a te? Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare Il mio cuore, meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai, mai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Il mio cuore, meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Il mio cuore, meraviglioso sei, per l'eternità. Quanto mio sarai, mai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Io non desidero che te... 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 Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. E questi anelli che rappresentano questa unione. Unione senza fine. Guardi un anello, non c'è un inizio e una fine. E' una cosa continua. Quindi questo è un simbolo, un ricordo. E non c'è fine. Ciò che Dio unisce nessun uomo deve separare. Cora... Allora... Procedete. E poi... un com' un amico Bene, io come servo di Dio, come ministro di culto vi chiedo se confermate l'impegno di matrimonio. Nino, tu confermi l'impegno di prendere in sposa qui presente Caterina? Sì, confermo l'impegno. Sì, confermo l'impegno. Non funziona, non funziona. Caterina, confermi l'impegno di prendere in sposo qui presente Nino? Sì, confermo l'impegno. Bene, per le facoltà che noi rappresentiamo davanti a Dio e davanti agli uomini, vi dichiaro marito e morte. Gloria a Gesù Cristo. Ora, voglio chiedervi una preghiera per entrambi. Signore Padre, io ti ringrazio per questa chiesa. Ti prego di benedire il pastore, gli anziani di Aconi e tutta l'opera. Padre, benedici questo giorno, benedici Caterina, grazie per avermela donata. Benedici questa famiglia che oggi qui davanti a te abbiamo formato. Benedici tutti i presenti, nel nome di Gesù Cristo. Signore, benedici il pastore, gli anziani di Aconi e tutta la chiesa. Grazie per questo giorno, grazie per quello che fa per noi ogni giorno, grazie per Nino. Nel nome di Gesù Cristo. amene. Gloria a Gesù Cristo. E un applauso ci vuole. Signore, vi benedizio, vi diamo tanto e benediziamo. Da parte del pastore, tutta la chiesa, il pastore saluta tutti, nel nome di Gesù Cristo. Amene. il culto è italiano. Devo benedizio. Ecco c'è la, ecco. C'è la bergamena da firmare. Allora, se voglio o no, puoi, 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 puoi cantare. Grande, je. Egli è il rete, je. Innalziamo lo, Gesù è il Signore. Grande, je. Egli è il rete, je. Innalziamo lo, Gesù è il Signore. Grazie a tutti 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 Questo rappresenta il mio corpo Che viene dato per voi Mangiatene tutti Fate questo in memoria di me Poi prese il calice E disse Questo è il mio sangue che viene dato per voi Bevetene tutti Fate questo in memoria di me E noi E noi prendendo il pane e il vino Siamo partecipi Siamo partecipi di questa comunione indissolubile Come Gesù con la chiesa Voi Amen Il messaggio di Gesù Il messaggio di Gesù Egli ha tant'amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio E quindi ci darà tutto il resto Nel nome di Gesù Cristo Dio ci benedica a tutti Grazie a tutti Alleluia 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti